Perché non c'è più il talent scouting? Ragazzi, non ci sono più i soldi che c'erano prima, ok? Prima c'erano i dischi, prima c'erano i dischi. La gente comprava i dischi, tu eri un artista, la gente comprava i dischi, tu facevi 300.000 copie, prendevi un euro a copia, perché ovviamente il cd costava quello che costava, c'erano i soldi che la casa discografica investiva, ma investiva perché poi vendeva un prodotto a 40.000 lire, vi ricordate, un prodotto a 20 euro e la gente lo comprava, vendeva milioni di dischi, l'etichetta poteva investire tranquillamente perché comunque rientrava abbondantemente, era un'azienda che faceva profitto. L'artista magari finiscava un contratto dove magari prendeva un euro a copia, ma andava benissimo perché faceva milioni di copie vendute, milioni di euro dalle copie vendute, poi faceva anche, se non diventava famoso, aveva anche tanti soldi dalla CI, o da Soundriff, comunque tanti soldi dai diritti, dai diritti, ogni volta che un brano viene proposto alle radio, cioè no, viene proposto, ogni volta che un brano viene trasmesso dalle radio, ogni volta che un brano viene suonato da qualche parte in televisione o durante un live, la gente, la televisione, la radio, il locale, la festa patronale, paga la CI o Soundriff, che sono le due società di collecting principali che gestiscono questi diritti, quindi l'artista guadagna anche da lì, però prima c'erano soldi in abbondanza anche dalle copie fisiche. Ora le copie fisiche sono sparite, è arrivato l'amico del cuore dei musicisti che si chiama Spotify, che gliel'ha messa proprio in quel posto, ce l'ha messa in quel posto, da Spotify, a meno che tu faccia milioni di streaming, non guadagni nulla. Prima magari vendevi 20.000 copie, 30.000, prima per fare disco d'oro dovevi fare 30.000 copie, adesso forse siamo a 15.000, non lo so, ma anche se ti andava male, vendevi 50.000 copie, tu comunque artista vi hai fatto 50.000 euro. Ora se tu hai 50.000 streaming su Spotify, quanto guadagni? 5 euro? Non lo so, probabilmente. 50 euro? Non lo so. Cioè lo so, ma non è questo l'argomento di questa lezione, ok? Il punto è, vi sto dicendo tutto questo, perché adesso cancella i soldi che c'erano prima dalla vendita dei rischi. Non ci sono più soldi. Le case discografiche hanno fatto accordi con Spotify, continuano a guadagnare perché gli hanno fatto accordi sugli interi cataloghi, ok? Loro guadagnano sugli interi cataloghi. Ma il musicista, che non ha milioni e milioni di ascolti, allora, c'è tutta una trafila prima di vedere il suo gettone intascato. Perché se ha fatto un disco con un'etichetta, l'etichetta magari ha messo dei soldi avanti e li rivuole indietro. Non c'è più l'investimento a fondo perduto perché so che è un artista che farà il botto, venderà un milione di dischi e io ci guadagnerò. È chiaro, vieni nei miei studi, se io credo in te, ti faccio un contratto per tre anni, cinque anni, sei mio... Cioè, vieni da me, nei miei studi io sono la Sony, la Warner o anche etichette indipendenti grandi, non soltanto le major. Vieni da me e che cosa fai? Registriamo, facciamo i super mega videoclip. Un disco ci può costare anche 100.000 euro, la produzione dei singoli, della promozione delle spese, non lo so, puoi spendere tantissimo. Tanto poi andremo a vendere milioni di dischi, l'etichetta, tutto quello che ha investito, in realtà è un investimento. Perché sa che tornerà più o meno, se è una brava etichetta e sa fare, diciamo, talent scouting. L'artista firma, dice, non spendo niente, mi danno un euro. Sì, vabbè, un euro, ma io vendo milioni di dischi, divento milionario, sono contento anch'io. Tutti erano contenti. Adesso l'etichetta dice, ma io qua, gli artisti ovviamente, e le nuove tecnologie hanno permesso a tutti di pubblicarsi da soli. C'è un marasma di gente, non si sa, non ho la certezza, il pubblico è distratto, sono cambiate le cose, questo mi piace. Se sono una major, forse ancora investe, perché ha mezzi potenti, ma investe sapete dove? E ritorniamo nel discorso che dicevo prima. Investe nei talent. E sapete perché investe nei talent? Perché investe sul sicuro. Ok? Investe sul sicuro. che vuol dire? Vuol dire che non prenderà mai uno sconosciuto che ha visto per strada, che canta le sue canzoni e dice, wow, queste sono canzoni stupende, gli pubblico un disco. Fateci caso, cioè, i singoli, quanti singoli di artisti nuovi che non sono passati dai talent, da X-Factor, da amici, e che sbucano soltanto dalla radio, così che, non so, riescono ad andare in rotazione. Quante ne sentite? Uno l'anno? Due l'anno? Ma forse sono troppo, forse uno l'anno. Il resto è tutta gente che già conoscete, che avete visto in tv, perché, ripeto, in grandi linee, le major, le case discografiche, investono sul sicuro. Quindi voglio trovare, lanciare un nuovo artista. Fammi andare a vedere. Maria, Maria, la grande Maria dei Filippi. Che sta facendo? C'ha questo programma, amici, sono questi cantati, sono stati sei mesi in televisione, hanno un pubblico, poi prima il pomeridiano, poi in prima visione, in prima serata, su Canale 5, boom, qualche milione di ascolti lo farà, qualche milione di persone che conosceranno questi artisti e qualche centinaio di migliaia li li ascolteranno, lo so, capito? Però è un investimento sul sicuro. Il musicista, attenzione, il musicista che parte da zero, ok, se l'etichetta piccolo, grande che sia, quindi, la major, ok, prende sostanzialmente dai tanti, comunque ancora in Sony, in Warner, in Universal, non è che ti vengano a chiedere i soldi per fare il disco, ma le etichette più piccole o medio-grandi, comunque si tratta di prestiti, io credo in te, anticipo i soldi per registrare il video, per registrare il disco, per lanciare il single, per la promozione, ho speso 5.000 euro, poi i budget si sono ridotti, con 5.000 euro faccio tutto, con 10.000 euro, esce il disco, tu, finché non rientro in quei 10.000 euro, di solito fanno così, fanno un accordo, magari fanno 50 e 50, oppure in base alle varie percentuali, ma quelle percentuali scattano al rientro del prestito, che cosa vuol dire? Vuol dire che, tu hai 10.000 euro che hai speso etichetta, nel momento in cui esce il disco, finché non arrivi a quei 10.000 euro, dal diritti di Soundriff, diritti di CI, streaming, vendita del merch, e prende il 100% l'etichetta, quando rientra di 10.000 euro che ha speso, poi fate a metà magari, dipende dai vari casi, quindi sono prestiti, quindi le piccole, medie, grandi etichette centellinano, cioè sono, sì, centellinano, sarà italiano, cioè sono parsimoniosi con gli investimenti, sono attenti, perché non ci sono tanti soldi, il modello di business della musica è cambiato, le entrate sono cambiate, è crollata un'importante entrata, che riguardava appunto il supporto fisico, perché ora la gente ascolta la musica online, su Spotify, e Spotify paga una miseria, quindi sta attenta, quindi quando tu gli mandi il tuo demo, e sei fra i, non so, le grandi etichette riceveranno, io ne ricevo due o tre al giorno, ne potrebbero ricevere anche 50, 100 email al giorno, di gente che si propone, forse ho esagerato, però un numero alto ogni giorno, che si propone, bene, già deve centellinare, in più, riceve una marea di richieste, quindi quante probabilità hai, sì, puoi essere anche bravo, ma qui stiamo parlando di, un prestito, e io a chi presto i soldi, cioè ragioniamo anche in termini economici, a chi, se qualcuno ti chiede un prestito, se è un prestito, magari poi mi dà gli interessi, quindi ci guadagno, può essere come un prestito, l'etichetta presta i soldi, perché sa che poi, quei soldi che ha prestato, gli rientrano, e in più ha un interesse, i guadagni, l'etichetta è come un'agenzia, come una finanziaria, bene, a queste finanziarie, o quando chiedete un prestito, che cosa controllano? controllano che tu sei un, serio debitore, nel senso che puoi ripagare il prestito, ok? Si informano che ha un lavoro fisso, non ha un lavoro fisso, però ha fatto un'azienda, sta chiedendo un prestito, e ti valutano in base a, quanta probabilità hanno di rivedere il loro investimento, bene, le etichette ragionano allo stesso modo, tu, ok, è bravo, dobbiamo, vogliamo fare un progetto ambizioso, 10 mila euro, andiamo a vedere però, è conosciuto, ha una presenza online, ok, ce l'ha, o non ce l'ha, perché se ce l'ha, se ha 50 mila follower su Instagram, 100 mila su YouTube, un milione di follower su TikTok, bene, io so che comunque ha una base, da cui partire, di pubblico, che ha già, e quindi so che, ok, faccio un prestito, ma ho delle garanzie, ecco, la vostra presenza online, è una garanzia, per le etichette, dovete avere una presenza online, perché, avendo una presenza online, aumentate le probabilità, di ottenere, delle opportunità, in campo musicale, perché siete visti, come, dei debitori, questo è bravo, andiamo a vedere, no, ma c'ha due follower su Instagram, c'ha tre follower, su YouTube, no, lo scarto, e quindi, Grazie a tutti.